Avendo iniziato il mio percorso musicale involontariamente con la breakdance perché io da quando ho 6-6 anni e mezzo che brecco, che ho intrapreso questo percorso che ho fatto poi fino ai 16 anni mi ha portato involontariamente a culturarmi del rap americano quindi mi compravo i dischi, il primo disco è stato Anarchy di Buster Himes e quindi io vengo da J. Dilla, vengo da Medlib, vengo da Dabri cioè da cose anche molto poco mainstream Danny Five, disco nuovo, ultimo piano come mai la scelta del titolo? domanda subito scontata ma è importante perché questo disco ha proprio nel titolo il significato dell'album per cui mettiamolo in chiaro subito allora ciao, sì diciamo che questo titolo rappresenta come dici tu un po' tutto il concept che gira intorno al progetto e mi sono fermato un giorno, mi sono fatto una domanda ho detto, si è comprato la casa che volevi dei tuoi sogni è un bambino bellissimo, è una ragazza che ti è a fianco da sempre fai il lavoro che ti piace, sei diciamo un po' all'ultimo piano cosa ti manca? solo che poi manca sempre qualcosa e mi piaceva questo gioco di parole che se sei all'ultimo piano puoi o solo riscendere o buttarti e quindi diciamo che anche questa metafora che si creava dietro questo titolo rappresentava perfettamente quello che volevo esprimere poi probabilmente nella vita dell'artista, del musicista non c'è mai un vero e proprio punto d'arrivo magari vedi un traguardo e quando lo raggiungi c'è subito un altro è questo il tuo caso? sì, assolutamente cioè hai preso in pieno a quello che diciamo volevo dire velatamente cioè alla fine sei l'ultimo piano però ti manca sempre qualcosa e vuoi cercare sempre quella motivazione in più per crearti altri piani anche se sei arrivato magari all'ultimo per quello che ti eri preimpostato hai detto ci sono motivi diciamo più venali, economici di essere arrivato ad avere uno status anche motivi artistici di aver collaborato e fatto cose con chi volevi e poi motivi personali di una famiglia e quali possono essere le altre motivazioni di Daniele per riprendere in mano la penna e continuare a fare l'artista? quello che immagini ad oggi, prima che esca diciamo crescere sotto ogni aspetto sempre di più quindi se abbiamo fatto il santeria per dire pieno vorrei fare magari un forum pieno perché no capito? e quindi continuare a coltivare il sogno con comunque la consapevolezza di avere già tanto e di essere stato comunque scelto dal destino diciamo che mi hanno voluto dare questa vita a me è vero che me la sono scelto ho sudato però sono consapevole che in tantissimi lo fanno e poi magari non riescono quindi con la consapevolezza di essere fortunato ma con la voglia sempre di più di motivarmi e darmi sempre più obiettivi nuovi la title track arriva proprio alla fine come dire a chiudere il cerchio ed è prodotta da Salmo che è un po' il tuo mentore ed è anche il pezzo più diciamo classic hip hop old school hip hop con rap più dritto la produzione più dritta è un cerchio che si chiude anche quello che è un punto dove sei partito ed è l'ultima traccia dell'ultimo piano per diciamo la traccia in sé sì però poi io alla fine della traccia ho messo diciamo di nuovo la voce dell'ascensore che dice sesto piano che in realtà era la traccia che al sesto piano nel disco è Dalmata quindi un po' fa confusione questa cosa ma è voluta proprio per lasciare spazio alla fantasia di chi poi lo ascolterà di farsi chissà che viaggio c'è una parte due si riscende perché comunque il concetto di base era quello una volta che arrivi all'ultimo piano puoi solo riscendere quindi diciamo questo easter egg è stato voluto anche per quello piccola parentesi sulla produzione di quel pezzo dell'ultimo piano di chi sono gli scratch? di DJ 2P ah sono di 2P sì quindi sei proprio squadra sì 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 al cento per cento assolutamente è il DJ che ti accompagnerà anche nel portare in giro il disco? no lui sarà sempre Kanesh ok perché mi accompagna da mai da otto anni ovunque quindi lui però sì 2P era era lui cioè secondo me la mano giusta sì 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 infatti ha interpretato benissimo tutto il viaggio è veramente una costruzione di un pezzo a fine degli anni 90 tra il 97 e il 99 come tipologia di ottica del mondo del rap vero come viene a uno ragazzo della tua generazione un'idea così? perché c'hai ispirazioni che vengono da quel periodo? perché trovi l'estetica di quel periodo bello? comunque sono 93 quindi bene o male avendo fatto avendo iniziato il mio percorso musicale involontariamente con la breakdance perché io da quando ho 6-6 anni e mezzo che brecco che ho intrapreso questo percorso che ho fatto poi fino ai 16 anni mi ha portato involontariamente a culturarmi del rap americano quindi mi compravo i dischi il primo disco è stato Anarchy di Buster Himes e quindi io vengo da J. Dilla vengo da Medlib vengo da Dabri cioè da cose anche molto poco mainstream che però grazie a quel secondo me quella cultura e il fatto che è comunque un cerchio la musica e tutto torna poi indietro è un riadattamento di qualcosa che era funzionato quella cosa a noi o comunque chi ha quel tipo di solidità quel tipo di background aiuta un casino sì assolutamente perché puoi fare più cose che sei più aperto mentalmente sì e si sente tanto anche nelle produzioni del disco poi sono anche un po' la summa delle produzioni che ha utilizzato anche nelle uscite precedenti c'è un po' di trap un po' di roba più drill un po' di roba un po' più verso il club un po' di rap dritto per cui è bello sentire che tutte le influenze sono interpretate bene cioè si vede che c'è uno studio dietro non c'è soltanto di dire ok è il 2023 il 2024 bisogna fare queste cose qua certo no 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 mai perché poi è un periodo di estrema libertà cioè chi funziona facendo rap c'è chi funziona facendo drill trap non c'è un canone per cui dici per funzionare bisogna avere consumi infatti secondo me se sei vero e autentico già è una grande partenza ma poi ne parlavamo con Sid tu sei uno dei rapper che ha studiato di più il proprio timbro e la domanda viene spontanea è stato uno studio che da quando hai cominciato a rappare ti ha portato a usare la tua voce così o è anche quella dote fortuna ma guarda in realtà prima prima io avevo una voce diversa per dire quando ho cominciato perché io appunto ho finito a 16 anni con il break ho cominciato a fare le prime rimed 16 anni e mezzo cioè 7 e lì avevo un'altra voce volevo però avevo nella mia testa quel tipo di impostazione l'ho cercata a anni ho registrato un sacco di roba che tuttora è fuori che però non funziona e comunque se risento ora dico cazzo avevo fatto nel senso che la scrittura poi maturando mi ha anche permesso poi di sviluppare meglio il flow e quindi poi lavorare meglio con la voce cioè diciamo è stato un po' questo il trick perché all'inizio puoi anche avere una bella voce ma se hai difficoltà ad andare a tempo non fai delle rime belle non ci credi troppo quindi non è che devi trovare la tua dimensione tutta insieme con il tempo comunque tanto lavoro sicuramente e in quello ti senti ad un buon punto arrivato o vorresti riprendere tutto da capo ma guarda sulla voce proprio sul modo di lavorare no anzi continuo a migliorare perché vado sempre in studio e penso sia come il calcio cioè anche Cristiano Ronaldo è un fenomeno però continuo ad andare un quarto d'ora prima agli allenamenti certo quindi io penso che il talento è una fortuna ma se non lo lavori non fai niente quindi io veramente lavoro come un matto ma anche perché penso davvero scusate mi interrompo di non avere questo gran talento cioè soprattutto all'inizio non avendo neanche una voce che poteva darmi una forte identità non è che giocavo quindi la mia testa è devo stupire ad ogni rima devo farci ha capito è stato un approccio lungo è uno sport complicato e poi soprattutto non ci sono ci sono dei mentori ma non ci sono dei veri e propri maestri cioè chi canta ha il suo vocal coach il suo maestro di canto che lo indirizza soprattutto se canta ad alti livelli c'è sempre qualcuno che ti ha meno c'è delle reference c'è qualcuno che ti aiuta può essere una persona più grande o un amico o uno della tua crew come nel breaking no? sì sì è raro che ci sia il maestro di breaking è un approccio che ti lascia meno solitario ma più ti dà più unione perché poi per migliorare vai in studio impari da altri capisci cosa fanno vedi come registrano vedi live impari più frequenti più è in quella cosa tu hai veramente detto la tua nel tuo percorso che si è sviluppato alla grande ti ha portato veramente da da zero ad fare le cose con gli amici ad avere una bella esposizione ma quanta strategia c'è dietro tutte queste cose cioè quando hai cominciato a scrivere l'ultimo piano ok puntavi a un'uscita adesso un'uscita invernale un'uscita a metà di dicembre o è arrivato come è arrivato cioè quello che ci sta dietro a livello di pensiero di strategia proprio di pubblicazione è così importante per te o è un aspetto secondario? faccio giocare sicuramente l'istinto le sensazioni e c'è quello proprio per creare il disco poi vedo che ce l'ho in mano prima ce l'ho in mano in tempo riesco a esaudire quel sogno di far uscire due dischi in un anno allora ok se no è bello che dici che comunque pubblicare tanto è un sogno sì sì perché è una grande possibilità fai vedere sì quanto sei produttivo e emotivi poi in più ti ripeto io da fan ai tempi per dire con caparezza banalmente era uno che mi piaceva un sacco cavolo aspettare quattro anni un disco per me era una tortura capivo il motivo perché vabbè la sua lavorazione è maniacale cura nei dettagli video poi lui preparava i live prima però cioè è bello capito che che sai se leggevo i commenti mi dicevano non ci credo wow sei un pazzo quindi quello ti ripagano sì poi sei uscito come penultimo lavoro con una sorta di mixtape anche per quanto come lavorazione non credo che va bene sì no no chiaro anzi forse il lavoro più grosso per chi fa un disco adesso non è tanto trovare le produzioni o sceglierle e scrivere ma è mettere insieme tutto il resto le persone le disponibilità delle persone quello è il vero lavoro che ci sta dietro e in ultimo piano tra l'altro non sei quasi mai da solo c'è sempre qualcuno sì mi sono complicato un po' vabbè dopo il tbc che ha avuto 19 persone più 14 producer è un delirio quello è un delirio che ti spinge a stare tutto il giorno attaccato al telefono è un lavoro che devi fare ce la facevo più ero morto di solito chi ascolta i dischi queste cose non le percepisce veramente c'è un lavoro di pubbliche relazioni di amicizia a volte è anche banale certo ho bisogno di te per il mio disco quando ci saresti per beccarsi una giornata in studio è fare qualcosa e magari moltiplicalo per 40 moltiplicalo per 40 e per 12 mesi l'anno se vuoi fare un disco l'anno qui non è così immediato poi scegli il vita quello è veramente un lavoro molto intenso che però ripaga perché poi sono visibilità che si sommano sono lavori che si intersecano ripaga un sacco poi ripeto ho avuto gente al mio fianco che involontariamente distinto io così ho scelto bene vogliamo dire perché poi mi hanno ridato tanto persone veramente belle che si sono sempre sbattute per tdc hanno fatto live sono venuti hanno fatto le prove sono venute le prove tutti a scaglioni orari diversi sono venuti per tutte le foto tutte le cose ci sono fatti i contenuti sono ritornati in studio cioè sono venuti io per lanciare tdc2 avevo fatto una cena adesso siamo ruggiati dentro un loft enorme tutto strano con il menu al contrario e lì erano venuti tutti loro comunque è stato un lavorone davvero grande però poi che grazie a dio è stato ripagato e poi ti aiuta tanto a differenziare il tuo lavoro in otto tracce hai dato sfoggio di capacità al lato tuo di mettere insieme persone che vengono da mondi diversi Federica Abate Villa Banks DJ2P Salmo Strage che ha curato tante produzioni J Balvin e Joliet infatti poi dici le cose veramente difficili della vita l'artista italiano più ricercato e l'artista internazionale più cercato dai featuring come è stato contattare J Balvin poi mi è capitato di incontrarlo e so essere una persona non squisita ma di più non facile ma di più la cosa che non ti aspetta è disarmante ma guarda noi ci sentivamo da Yoshi Remix quindi abbiamo coltivato un rapporto all'istanza ci sentiamo ogni tanto e io gli mando roba io per due anni gli ho continuato a mandare roba ogni tanto gli giravo lui mi diceva bella carina meno bello così poi un giorno gli ho mandato questa qua che Destino Vuole aveva rifiutato un rapper italiano non ti dico chi e quindi mi ero anche fatto i dubbi ho detto non è così forte io penso che così ma invece gli hanno mandato a Balvin è impazzito mi fa hit mandami tu subito il testo così è voluto fare lui la stroke e poi da lì e ho ragionato anche lì come Yoshire Mix che ai tempi abbiamo messo capo plaza volevo dare comunque un peso molto molto forte alla traccia ecco e quindi su un beat così dove devi rappare proprio essere Kiss il più forte che c'è adesso che è veramente un treno infatti ha spaccato tutto e quindi è nata un po' così però ecco è una traccia che io pensavo ho da due anni avevo da due anni e tenere le cose nel cassetto a volte non si ha se mantiene uno anche e beh allora vedi che non è proprio l'ultimo c'è sempre qualcosa di pronto e il bello di avere in un brano tre lingue diverse eppure molto omologhe tutte molto mediterranee spagnolo esatto l'italiano e il napoletano è tanta roba è figo e non è forzato non è un pezzo multilinguato no ognuno è il suo bravissimo e hanno tutti la stessa senti il tuo pezzo sì 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 vero invece la deriva più pop che è venuta fuori col pezzo con l'abate ma lì secondo me neanche troppo pop volevamo non snaturare né me e né lei troppo sul rap abbiamo detto vediamo effettivamente è uscita sta roba che siamo rimasti stupiti entrambi perché non eravamo partiti con quell'idea il beat era un'altra cosa lei poi ha suonato il piano quindi si è aperto al pop poi ritorna rap poi c'è un groove poi c'è capito c'è tanti plot twist e secondo me stupisce proprio per quello perché non è né una cosa né l'altra ma è un po' tutto no e guarda sono proprio contento di quel brano è un disco è un disco che contiene la parola ultimo quindi fa sempre un po' paura a livello di punteggiatura pensi sempre che ci sia un punto dopo abbiamo già detto che così non è però volevi racchiudere tutto ed è una cosa a cui sei andato a punti di cui sei contento in questo momento assolutamente mega contento e già questo secondo me è veramente uno dei punti d'arrivo è bravo vero bravo anche questo è un po' l'ultimo piano forse per questo perché non sono forse mai stato così sereno tutti questi anni sai all'inizio inizio inizio quasi in maniera un po' ossessiva no far vedere quanto vali e quindi poi se non arriva a me mi è brutto il culo che è arrivato però magari non arrivava ed ero ancora lì quindi anche quello poi sai però non c'è mai stato veramente una parte di me così serena forse perché sai casa è arrivato tutto giusto tutto come ti dicevo uccito perfettamente e quindi ti dico ho la mia dimensione sto bene è l'importante che continuo a fare musica è giusto così ok ma hai la stessa attitudine che avevi quando breccavi praticamente sì sì anche di più anche di più l'attitudine non muore mai anzi quella che mi motiva proprio cioè andare in studio e spaccare tutto beh davvero grazie grazie a te grazie a voi speriamo presto allora a presto grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti